Bene, vediamo ora il terzo dei sistemi di sensibilizzazione dell'inconscio, cioè il sistema delle analogie o delle opposte polarità. È un sistema a sé stante in quanto utilizza la parola in chiave analogica, poiché l'inconscio attribuisce a quella data parola un vissuto emozionale del passato. Ma che tipo di parole si potranno utilizzare per accedere al nostro inconscio? Beh, appunto le parole che evocano delle emozioni. Potranno essere sinonimi e contrari, aggettivi e sostantivi, ma anche classi, generi di parole che comunque avranno un richiamo di tipo emozionale. Ora siamo qui con la nostra amica Olga e andremo proprio a vedere concretamente come sensibilizzare l'inconscio attraverso il sistema delle analogie. Procediamo adesso proprio con un esempio legato a sinonimi e contrari. Buio. Olga già nella posizione ortostatica. Buio. Ecco, vediamo che l'inconscio di Olga non gradisce il buio o ciò che esso rappresenta per lui. Luce. Vediamo il suo contrario. Luce. Luce. La luce piace al suo inconscio. Facciamo un altro esempio ancora. Caldo. Caldo. Il caldo non piace, non attrae al suo inconscio. Fresco. Fresco. Il fresco sì. Facciamo un altro esempio ancora. Freddo. Freddo. Ecco, né il caldo né il freddo sono graditi, ma lo è invece il fresco. Un altro ancora. Naturale. Naturale. È un sì. Il suo contrario. Artificiale. 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 Ecco, è evidente che l'inconscio di Olga ama la naturalezza o ciò che ad essa è connesso. Ma vediamo anche altre classi, dicevamo, parole di uso quotidiano, categorie. Pensiamo, non so, ad esempio ai colori o ai fiori. Proviamo con i fiori. Margherita. Margherita. È un sì. Giglio. Giglio. È un no. Rosa. Rosa. Anche in questo caso è un no. Bene, vediamo che invece la Margherita ha successo con l'inconscio di Olga e dunque se noi staremo conversando con lei sarà quanto mai opportuno e utile dare continuamente, continuare a dare questo stimolo sulla Margherita e ad esempio, non so, sai, amo moltissimo la Margherita perché è proprio un simbolo di primavera. Quindi quando penso alla Margherita penso alla primavera che è una stagione che io amo molto. Ecco, ecco, abbiamo visto, abbiamo visto che Olga ci sta dando proprio un segnale di gradimento, un segnale di gradimento proprio in funzione di questo stimolo che noi abbiamo fornito. Bene, abbiamo visto come attraverso anche la parola usata in chiave analogica sia possibile accedere al nostro inconscio. Bene, ringraziamo la nostra amica Olga che ci ha consentito di fare questa dimostrazione sul sistema delle analogie e di vedere come anche con la parola usata in chiave analogica sia possibile accedere al nostro inconscio e a quello dei nostri interlocutori. Grazie. Grazie. Grazie.